La terza vittoria nelle ultime quattro partite e il settimo risultato utile di fila per il Casarano, la seconda sconfitta consecutiva del team Altamura. Il derby di Puglia, giocato al Capozza, sorride al triplice fischio ai rossazzurri di Giuseppe La Terza, che la spuntano con il punteggio di 2-1 e si portano a meno uno in classifica dei Murgiani. 13 punti per i Salentini, 14 per i Biancorossi di Domenico Giacomarro, contro i 18 della capolista Fasano. Padroni di casa con Guastamacchi al centro della difesa in coppia con Celi al posto dello squalificato Vona. Davanti Gambino, Citro e Falcone alle spalle di Perez, Gionai e Raikovic partono dalla panchina. Non c'è lo iodice nell'11 di partenza dell'Altamura, spazio a match in corso anche per Molinaro e Scardina. Titolari Lattanzio, Carmud e il 2004 di Innocenzo, out dietro Petta, che resta in infermeria. Primi dieci minuti dedicati alla fase di studio, poi Perez va giù in area avversaria, ma il direttore di gara lo invita a rialzarsi. L'Altamura nella prima parte di gara copre bene gli spazi, tiene il campo con personalità e ci prova sul calcio piazzato. Perez cerca e trova dalla parte opposta Citro conclusione debole e centrale. Poco dopo Dino Cenzo prova a colpire da posizioni interessanti, ma il suo tentativo è murato da Giannini. Insistono gli ospiti, Maccioni si propone in area ma guadagna solo un corner. Sui sviluppi dello stesso calcio d'angolo Lattanzio si gira bene ma calcia tra le braccia di Pucci. Mezz'ora, Bolognese dal limite, fallisce la mira, non trova lo specchio Bertolo sul piazzato battuto dallo stesso Bolognese. Il parziale cambia, 5 minuti dal riposo. Pedalino crossa dalla destra, Enrico insacca nella porta sbagliata il più clamoroso degli autogol, che saranno in vantaggio a metà gara perché nel recupero si spegne a lato il tentativo di Gambino. Duplice fischio, intervallo ripresa che si apre con la novità lo iodice per gli ospiti. Giacomaro sceglie lui al posto di Carmud. Perez in apertura non riesce a spazzare. Lattanzio è da posizione favorevole, non ne approfitta solo corner. Dalla parte opposta lo stesso Perez si gira bene ma Fernandez lo anticipa. Giannini poco dopo l'ora di gioco non c'entra il bersaglio. Poi l'episodio clou a metà frazione. Perez combina con Citro poi viene a contatto con Mattere in aria. Per l'arbitro ci sono gli estremi per il rigore dal dischetto. Citro non perdona e raddoppia per i suoi con una super trasformazione. 2-0 al capozza. Provano a reagire gli ospiti. Dipinto non trova lo specchio per i suoi. Il mio entrato Molinaro prova a sorprendere Pucci con una conclusione deliziosa che si perde di poco sul fondo. Dalla parte opposta Perez servito da Citro non piazza il colpo definitivo. Poi versienti su suggerimento del solito Perez non incide sul punteggio col mancino. L'altamura insomma resta in partita e prova l'assalto finale alla ricerca del gol della Speranza che arriva ma in pieno recupero quando ormai è troppo tardi. Lo realizza il mio entrato Scardina ma finisce comunque 2-1 per il Casarano. Continua a scalare la classifica dunque la squadra di la terza ora quinta a meno uno dall'altamura terza mercoledì. Nel giorno Dionisanti si torna in campo per il turno infrasettimanale Casarano sul campo della capolista Fasano. Altamura che proverà a riscattare le ultime due sconfitte nel domicilio dell'Angri.